Allora, come abbiamo fatto vedere con Unity, è possibile ottenere un effetto analogo, cioè quello di far vedere un video in una scena 3D, in Godot. Quindi adesso vi farò vedere il risultato finale e poi andremo un po' a esplorarlo nei suoi componenti. Quindi lanciamo questa scena e vedete che ci compare un cubo sopra un piano, tipico scena 3D. Se io clicco, vedete che non succede niente, ma se clicco sul cubo, qua giù, vedete che si accende un pannello. Questo pannello è il video e questo pannello è in grado di mostrarci una scena solo quando cliccata. Se riclicchiamo si spegne questo video, quindi tutto sommato abbiamo una soluzione che è leggermente meno raffinata, ma altrettanto valida anche in Godot. Come facciamo per realizzare tutto ciò? Dobbiamo avere in particolare all'inizio uno static body che rappresenta il nostro cubo, in cui, diciamo che è il cubo che deve essere toccato, quindi il cubo avrà uno script, che sentirà quando faccio il clic sopra. All'interno del cubo abbiamo una collision shape, che rappresenta la dimensione del cubo, che sono quelle che ci permetteranno di essere cliccate. E poi ci sarà un cubo, per far vedere il cubo effettivamente, propriamente detto. E infine un video player a cui è associato il nostro brano, che però deve essere in un formato che si chiama OGV. Una volta messo in formato OGV, lo infileremo qui, gli metteremo autoplay off, in modo tale da non farlo partire subito, in ogni caso. E poi nello script clicked, qui, mettiamo una funzione, func input event. Ogni volta che succederà qualche input associato al nostro oggetto, che ci verrà filtrato attraverso tutto il framework di Godot, andremo a vedere se l'evento è un bottone premuto. Se c'è un bottone premuto, a seconda di un toggle, o una action, come abbiamo visto in Unity, ci farà comparire il video player, lo farà suonare in un caso, oppure lo farà sparire, non più visibile, lo stopperà nel secondo caso, e dopodiché dirà toggle diventa inizialmente 0, 0, false, diventerà poi vero, e così via, in modo tale da fare il suo mestiere, cioè interruttore che va alternativamente su e giù, ogni volta che viene toccato. Quando andate nella scena 3D, vedete che è questa, vedete che ho messo una camera, che è normalissima, non c'è niente, abbiamo un piano, che è una Mesh Instance, che serve solo per dare un po' di supporto, e abbiamo un Clicked, che è questo famoso oggetto complesso, che è formato dal cubo, dalla sua reintersezione, e dal video player. Se vado a cliccare sul video player, vedete che mi compare, le dimensioni di questo video player, sono impostate in 2D, e le dimensioni ci indicano anche quanto grande, ah, tanto qui è on, quindi probabilmente, no, ci dice, quindi lo vediamo nelle sue dimensioni, probabilmente ci avrà anche delle dimensioni massime, in cui si può vedere, in questo caso non riesco a vedere tanto bene, ma, ah, perché dobbiamo fare forse visibile, ecco, visibile, ecco, quando è visibile, si vede la dimensione del nostro video player, io l'ho messo in visibile, in modo tale che non compaia subito nella scena, ma sia attivato dallo script, quando clicco. Quando è visibile, possiamo anche dire quanto grande deve essere, rispetto alla nostra scena. Quindi, se la nostra scena, se vogliamo che il video copra tutto, possiamo fare così, e possiamo lanciare il nostro, ecco, così, non era proprio quello che volevamo, perché facciamo video player invisibile, e facciamo così, quindi, se noi clicchiamo, compare il nostro super video, solo che poi non riusciamo più a ricliccarlo, per spegnerlo. Attenzione, se noi volevamo che l'opzione di input fosse in generale, e quindi non soltanto cliccando quell'oggetto, ma fosse un qualche cosa generale, potevamo anche mettere un evento, anziché input event fatto così, dovrebbe funzionare func input di event, ecco, questo dovrebbe sentire tutti gli input, non solo quelli associati alla collision shape. Vediamo se è vero, quindi lanciamo il nostro, quindi clicchiamo, vedete che parte il nostro video, solito, e ricliccando sparisce, quindi abbiamo visto, in realtà, due modi, quindi questo per legarlo al generico click del mouse, che però in alcuni casi, in questo caso è meglio farlo così, invece, se volete che compaia soltanto quando si preme su una collision shape, e allora a questo punto dovete ridurre un pochino questo schermo, in modo tale da poter cliccare sul mouse, cioè sul cubo, e a questo punto si ottiene di nuovo il, ecco, vabbè qui è presente, ma così, vedete che compare, e ci dà la possibilità di cliccare sul nostro cubo. Una cosa ultima, prima di uscire dal video, è se voi non sapete come convertire un OGV, cioè un MP4 in OGV, ci sono alcuni siti che lo fanno, in realtà non è proprio banale da trovare, perché molti che lo fanno, 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 spesso fanno dei brutti misteri, tipo mettere adware, quindi nel caso, potete, credo che Audacity, convert, no, Audacity converte audio, sostanzialmente, ma ci sono, MP4 to OGV, dovrebbero esserci delle cose, dei programmini che permettono di farlo, eventualmente non appena trovo uno, che sia abbastanza sicuro, perché ve lo aggiungo in coda nella descrizione del video. Prometto è tutto, salve.